Sa sa sa, sa di sassari, sa salsa di soia, ok perfetto Benvenuti in una nuovissima serie con un po' più di qualità Marco Unboxing, o dobbiamo decidere il nome, quindi o x2unboxing, unboxing per due Insomma, decideremo tutto in corso d'opera In questa serie avrei unboxato tutte le minchiate che compro Ho pensato, già compro un botto di roba Perché non unboxarle e farci video sopra? Non prendiamoci in chiacchiere, cominciamo subito Prima però Sa sapore di sale, mi ero dimenticato di metterla a handcam, quindi il pacco della box Ho comprato questa cosa qui non avendone mai avuta una Servirebbe per il mio telefono e per le mie airpods Questo coso mi ha costato 20 euro La vera domanda adesso è, per 20 euro ne vale veramente la pena? Ah, eccolo qua Un caricatore wireless Perché è un caricatore wireless? Non lo so neanch'io, ma ho pensato, potrebbe essere utile? Adesso la vera domanda è, è utile? Non lo so, potrebbe essere figo? Assolutamente Questa è la prima basetta che immagino per le airpods Infatti, airpods charging pad E questo dovrebbe essere quella dell'iPhone immagino Oh no, che è sbadato Ho lasciato OBS acceso Ma caduta la ring light? Oh, già meglio magari Cavo di ricarica E... E questo è il tutto Fammi capire Come... Facile, semplice e veloce Che figata Quindi semplicemente E si attacca Ho ad attaccarlo al computer Dato che ce l'ho qua Lo usiamo per qualcosa Dato che, hey È come oggetto scenico Usiamolo Cavetto type C E si vola Ora, io non so Se queste possono essere caricate wireless Mi hanno detto che alcune Possono essere caricate wireless Altre no Momento della verità E come faccio a capire se sta caricando o no? Andiamo a rubare un telefono Appena rubato il telefono a mio padre Ma non sono sicuro che Questo telefono abbia la ricarica wireless E ci toccherà scoprirlo oggi Che dire Potrebbe essere figa come roba Ho appena comprato un caricatore wireless Ma c'è Essere il fratello maggiore Si risulta più difficile del solito Ciao Tornando a parlare del caricatore All'apparenza vi dirò Sembra molto figo Non prendi spazio E soprattutto Hai il suo perché La vera domanda è Funziona anche se lo metto In questa zona qua Per le airpods Perché le mie qua Non le carica Carica anche qui Quindi potrei caricare All'effettiva Due dispositivi In modo wireless Quindi figo Il design È una roba molto figa Secondo me Intuibile Cosa che Purtroppo non si vede Spesso ai giorni d'oggi Mi spazio se lo non possa essere ricaricato anche con le airpods Perché a sto punto mi sa che mi tocca comprare quelle pro No non è vero rimarrò queste Perché non Perché non mi si distruggeranno in un qualche modo Per 20 euro vi dirò È worth? Sì Perché già di cavi ce ne sono abbastanza in questa postazione Se devo pure contare Caricatore dell'iphone Caricatore delle airpods E altri cavi immondi Tanto vale che uso questo Lo poggio e ce l'ho lì Tranquillissimo Devo dire Un 8 su 10 Non gli do 10 solo perché non funziona con questo Però so stronzo io Perché se no sarebbe stato un 10 su 10 Tra lasciando le minchiate Può essere una serie che vi può piacere questa? Comprare e unboxare Roba tech E soprattutto roba che mi consigliate voi Che sia dalla più stupida Alla più seria Io direi che per un prossimo episodio Posso azzardare al numero di like È una cosa da youtuber che non ho mai fatto 200 like Prossimo unboxing Sì Ciao Potrebbe essere utile? Pa!